Duomo di Orvieto. Ecco la terza parte, il terzo video in cui ho suddiviso gli scatti fatti per dare un'idea del Duomo. Quindi l'interno, luminoso, solenne, imponente. Pur avendoci lavorato una enormità di artisti ed artigiani, mantiene una sua unitarietà ed armonia. Già questo è un miracolo. In mezzo a queste colonne e in questa luce finisce la mia fatica, tesa a darvi una seppur pallida idea della bellezza di questo straordinario Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti